Muovi i piedi, tieni bene la direzione a quei piedi, movimenti giusti, mirati. Ok, il pioce è basso, fa così, dipendendo, invenzione, così, fermo, fai di dietro. abbiamo fatto 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 hai visto che si sale? questo è termodinamica il vento che rimbalza sulla massa del cumulo sulla massa del cumulo si saleva bella questa esperienza segui il cumulo guarda che si continua a salire guarda ovviamente benso il cumulo bellissimo, grazie signor ok 8.001 di calma 8.001 di calma ok sempre acceso lì dietro ho capito sempre acceso la destra poi la destra la ripassiamo dentro va bene appena 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 e qui siamo in discendenza e qui siamo in discendenza eh beh certo ma se mezzo si è filata quando dobbiamo scendere qui 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 eeeh non si fanno meglio di no adesso comincia con i dirottori ripeti verso l'IKEA un po' i dirottori fuori i dirottori fuori fuori IKEA puntata si chiudi i dirottori chiudi i dirottori chiudi i dirottori chiudi i dirottori ok pista in vista via c'è la pista mirando via fuori i dirottori F51226 via sulla pista a destra a destra a destra vai a destra allineati si perfetto fuori i dirottori vai ok non troppo devi arrivare ben oltre la soglia quindi se si chiudi adesso che si discendezza ecco il vento è un po' così adesso quando ti dico li apri e poi lo portiamo al fondo assieme quando hai toccato ok li apri adesso le pira va bene 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 va bene